ci siamo al capitolo 6 di marco per questo prossimo venerdì ora leggete molto bene il capitolo prima di arrivare perché è un po lungo abbiamo sette meraviglie in questo capitolo la prima riguarda quando gesù torna a casa sua dopo aver fatto un giro di predicare insegnare guarire e scacciare demoni quindi lui viene a casa sua ma lì lui si meraviglia perché loro avevano poca fede si meraviglia della loro incredulità il secondo evento che noi abbiamo in marco 6 e anche molto molto interessante perché riguarda che lui da potere ai suoi discepoli e loro escono a predicare a chiedere alle persone di cambiare il dettagliamento di formare un altro pensiero pentirsi della maniera di essere e anche loro e scacciano demoni e guariscono alle persone io vorrei essere come questo uomini che seguevano a gesù anche voi vorrete vorrete essere anche così la terza cosa è molto interessante perché è la storia di erode e gesù cosa diceva gesù e cosa diceva erode di gesù e le altre persone che cosa dicevano di gesù la quarta cosa è molto anche interessante perché ci racconta la narrativa della morte di giovanni battista vi ricordate all'inizio abbiamo letto la sua vita ma lui si trova in galera ora trovate il verso 21 mi ricordo io lì ci sono quattro parole che ci danno una chiave perché giovanni è messo a morte dopo di questo evento noi abbiamo la storia veramente di come gesù esce a predicare e fa una cosa meravigliosa moltiplica la moltiplicazione moltiplicazione dei pani bu una storia meravigliosa ma dopo questo c'è un'altra sconvolgente per dire la verità se parla di quando gesù cammina sul acqua e l'ultimo versetto sarebbe la settima narrativa che abbiamo in questo capitolo e ricordo che quanti toccavano a gesù erano guariti quindi vi prego di leggere il testo prima di arrivare venerdì un paggio di volte o tre volte così quando lo leggiamo insieme possiamo parlare cosa pensiamo cosa ci viene dentro a noi cosa sentiamo pregando ovviamente per una illuminazione per capire queste storie che veramente tutti sono una meraviglia un bacio a tutti ci vediamo venerdì ciao ciao ciao